Dalle stelle alle stalle, dal paradiso all'inferno in soli 40 minuti. L'FMC Ferentino non riesce a capitalizzare il vantaggio che si era costruito nello scorso weekend, cedendo sul parquet di Napoli con il punteggio di 101 ad 87 ed è costretta di nuovo a rincorrere i playoff. Gli Amaranto infatti viaggiano ora all'ottavo posto con due lunghezze di svantaggio rispetto ai cugini del basket Veroli, sicuri al momento dell'accesso nella post-season. Ma a mangiarsi le mani, per quanto accaduto sul parquet del Palabarbuto, sono soprattutto i gigliatti di Franco Gramenzi, che hanno gettato al vento una grande occasione. La gara all'inizio ha visto l'FMC iniziare forte con il 4 a 13 dopo tre minuti. E questo è l'andamento nel corso del primo quarto, con gli Amaranto che trovano anche il più 12 sul 10 a 22. Bucci e Green tengono avanti Ferentino al nono minuto sul 16 a 27 prima del rientro napoletano. Il primo quarto si chiude sul 20 a 27. Già nel secondo quarto, però, la gara diventa molto più equilibrata, con un parziale iniziale di 7 a 0 da parte di Napoli che regala il 27 pari. Si va avanti sul punto a punto, con l'FMC che chiude comunque in vantaggio a riposo lungo sul 46 a 49. Nel terzo quarto, poi, l'FMC produce il suo massimo sforzo per mettere le mani sulla gara. Bucci, Green e Mosley firmano, infatti, il 57 a 65. Ma Napoli ha ancora una volta la forza di rifarsi sotto, rimettendo il naso avanti sul 69 a 68 a due minuti dal trentesimo. All'ultimo riposo, il punteggio è sul 74 a 71. L'inizio di quarto, poi, è tutto di marca napoletana. La Expert, infatti, raggiunge il massimo scarto a due minuti dalla fine, con il punteggio sul 90 a 81. L'FMC tenta di reagire, non riuscendo però mai ad impensierire i padroni di casa, che passano meritantemente con il punteggio di 101 ad 87. Per quanto riguarda i tabellini, in casa Expert 20 per Black e 18 per Weaver. Per Ferentino, invece, 21 per Rodney Green e 16 per Ryan Bucci. Domenica prossima, prima della sosta pasquale, al Ponte Grande arriva Casale Monferrato. A questo punto, però, non dipende più tutto dagli uomini di Franco Gramenzi.